Ciao a tutti! Oggi vi presento questo body di Obsessive Lingerie. Come potete vedere è realizzato in micro-rete e grazie ai suoi ricami in rosa e al bordo acceso vi rifiniscano il corpo. Il retro è realizzato a slip e presenta i medesimi ricami nella parte frontale. Non vi resta che indossarlo!